Ben ritrovati da Marco Conteri, una nuova edizione del TMW News, tutte le voci, gli approfondimenti sulle notizie più importanti di giornata e non soltanto parleremo tra poco di Inter, una voce importante che riguarda il Napoli, altri club molto rilevanti della nostra Serie A, il mercato e tante opinioni, ma non possiamo non partire in questa giornata dall'Ionel Messi, dall'Argentina, ovvero da quella che è la prima finalista del Mondiale di Qatar 2022 e lo facciamo insieme a chi l'ha raccontata ieri per tuttomercatogweb.com come Gaetano Mocciaro. Ciao Gaetano, buonasera. Buonasera Marco. Buonasera Gaetano, questo come detto è un approfondimento che riguarda l'Argentina, Lionel Messi, io non partirei da quello che è un paradigma, è un paragone tutto italiano, l'uovo la gallina, Messi o Maradona, una poltrona per due, possiamo anche partire da questo come tema. Visto che ci avviciniamo al Natale direi assolutamente di sì. Guarda, io non direi che poi è solo italiano, perché guardando anche, soprattutto italiano effettivamente, ma non solo, perché anche in Catalogna hanno titolato Messidona, per esempio, i quotidiani, quindi ci stanno ricamando sicuramente tanto. Indubbiamente questo è il Mondiale dove Lionel Messi ha avuto il maggiore impatto, fra i cinque in cui ha giocato, dove ha effettivamente fatto la differenza e dove effettivamente c'è un gruppo che si è messo a disposizione del più grande di tutti, come nel 1986. Chiaramente non è possibile fare paragoni, credo anche che questa Argentina sia qualitativamente superiore a quella di Diego Armando Maradona ai Mondiali del Messico e che comunque però è riconosciuto il leader assoluto alla soglia dei 35 anni e all'ultimo grande torneo, finalmente diciamo che Messi ha preso veramente le redini in mano dell'Argentina, verrebbe da dire meglio tardi che mai, ma alla fine effettivamente, chissà, forse la Coppa America lo ha sbloccato probabilmente. Coppa America vinta. Quella dell'anno scorso. Ricordiamo che sarebbe, tra l'altro, la prima volta nella storia dell'Argentina questa sorta di back to back, anche se non è nello senso altro, fai a vincere prima la Coppa America e poi il Mondiale. Messi ieri su Guardiol ha fatto qualcosa di straordinario, se lo ha portato a spasso, il miglior difensore del mondo, aspettiamo ancora un po' a definirlo, no, il centrale Croato? Eh sì, lì è praticamente, l'ha portato a guinzaglio praticamente Guardiol e lì si è capito che per citare i fatti dell'anno scorso degli europei che Guardiol deve mangiare ancora tanta pasta asciutta per diventare il difensore migliore al mondo, sicuramente un ritorno con i piedi per terra per questo giocatore che è comunque, ricordiamo, un classe 2002, ha già alle spalle un europeo, diventerà uno dei più grandi di tutti, ma alla fine trovandosi contro un 35enne che è ancora il più forte di tutti, ha battuto un po' la testa contro il muro, per cui sicuramente gli aspettano grandi tornei a Guardiol, ma in questo momento dovrà ancora crescere molto. Fidatevi la pronuncia ovviamente del centrale di Gaetano, Mocciaro rispetto alla mia, l'ultima invece te la chiedo Gaetano su Julian Alvarez, l'attaccante scuola River Plate che doveva tra l'altro sbarcare in Italia un obiettivo di molti club italiani prima che il Manchester City arrivasse con i soldi, lo prenotasse, lo prendesse, Guardiol ha detto, qui la pronuncia è giusta, gli ha detto tieni i soldi, tieni la maglia e giochi nell'attacco del City, non si può dire di no, è definitivamente lui il centravanti di questa Argentina anche verso la finale. Senza dubbio, senza dubbio alcuno. Io trovo, oltre a Julian Alvarez, anche Enzo Fernandez sono i due volti della svolta dell'Argentina, quando sono entrati loro è cambiato tutto. L'Argentina si era affidata giustamente a Lautaro Martinez, ha fatto delle prestazioni al di sotto delle aspettative, su tutto mercato web ha preso due, quattro e mezzo, sia con l'Arabia Saudita che con il Messico. Questo ragazzo di 22 anni sta polverizzando anche dei record, perché nessuno così giovane era stato così impattante in una semifinale di un mondiale. Solo una persona in realtà lo è stata, ed è un certo Edson Arantes non nascimento, cioè Pelé, e parliamo del più grande di tutti. È un giocatore che ha un talento infinito, che ha una fame incredibile e che vede veramente la porta. Ha superato nelle gerarchie Lautaro, sarà sicuramente il titolare, lo sarà negli anni a venire, e ha avuto la sfortuna probabilmente di finire in una squadra grandissima come il City, che però ha il cannibale per eccellenza, ossia Erling Golland, quindi staremo poi a vedere al ritorno dai mondiali. L'impressione è che sia un grande scalatore di montagne insieme a Eddie Merckx, insieme al cannibale, come lo è definito. Grazie Gaetano Mocciaro per questa analisi, l'ho leggete ovviamente sul calcio internazionale, non soltanto sulle colonne di tuttomercatoweb.com, racconterai tu la finale per Tutto Mercato Web. Raconterò io insieme a Simone Bernabèi, quindi ci aspettiamo una finale grandi firme. 4-4-2 ancora per l'Argentina, ti aspetti questa Argentina, te lo chiedo in 10 secondi. Io credo di sì, credo che sarà confermato. Devo dire che comunque Scaloni si è dimostrato un ottimo allenatore, peraltro camaleontico, perché ha presentato tre moduli diversi, l'ultimo assolutamente funzionante, ma anche la difesa a tre è andata molto bene, ma mi aspetto un 4-4-2. Vedremo se così sarà, grazie Gaetano. Adesso però cambiamo argomento e torniamo alla nostra Serie A con l'intervista del nostro Alessio Dellunga, un grande ex del nostro calcio italiano come Massimo Maccarone. Andiamo a dare il benvenuto a Massimo Maccarone, ex attaccante in una lunga storia in Serie A. Ben trovato al TMV News. Grazie, buongiorno a voi. Partirei subito chiedendole un parere sulla stagione del suo Empoli, che stupisce sempre per la continuità che ha. L'Empoli comunque è sempre stata una società che punta molto sui giovani, anche sui allenatori comunque che prima ha sempre fatto sui giocatori, ora sta secondo me iniziando anche sui giovani allenatori e sono contento per quello che sta facendo soprattutto Paolo Zanetti perché secondo me è un grande allenatore e lo conosco, ho avuto la fortuna comunque di andarlo a vedere quando era a Venezia, i suoi allenamenti, perché penso che sia molto bravo. e l'Empoli ha individuato comunque un allenatore bravo per far ancora crescere meglio i giovani. Tra le sue ex squadre che ha un po' più in difficoltà invece è la Sampdoria che aveva iniziato la stagione con Gianpaolo che lei conosce molto bene. Che cosa gli manca a questi allenatori ultimamente per far bene? Credo che il mister da quando è andato alla Sampdoria sono andato spesso a vederlo. Quest'anno inizialmente ha avuto tanta sfortuna come gli capita spesso perché comunque ha perso e pareggiato partite che doveva vincere e poi è normale che quando non vengono i risultati l'allenatore è sempre quello che paga per il primo ma penso che poi quando vai avanti anche in una piazza come la Sampdoria senza risultati è una piazza importante che pretendono tanto e possono capitare annate storte. Il campionato italiano sembra che stia tornando a buoni livelli si aspettava un Napoli così dominante in questo avvio di stagione? Penso che nessuno dopo le partenze di quest'estate nessuno si aspettasse un campionato del genere e penso che la differenza la sta facendo tutta la squadra le vittorie con le piccole squadre che a confronto dell'anno scorso hanno questo valore in più perché se ha otto punti di vantaggio l'anno scorso li perse contro le piccole squadre in casa se non mi ricordo male erano Empoli e Spezia e quest'anno invece sta facendo un grande campionato sia con le big che con le piccole che secondo me sono quelle che fanno la differenza per una squadra che deve vincere il campionato. Nel Napoli giocano anche due i suoi ex compagni come Zielinski e Mario Rui si immaginava che potessero diventare così forti? No, me lo immaginavo perché comunque Mario Rui è un terzino molto tecnico che fa il caso del Napoli che gioca sempre la palla Zielinski l'ho sempre detto fin da quando era con me che era giovane e avevo sempre detto che dipendeva da lui per la sua carriera perché ha delle doti veramente importanti che pochi giocatori hanno e continua a crescere anno dopo anno fa sempre meglio. Lei ha giocato insieme anche a due esterni dell'Inter come Darmian e Di Marco quanto sono cresciuti e quanto sono affidabili in questo momento? No, sono cresciuti molto perché comunque io l'ho avuto tutti e due che erano molto giovani erano ai primi anni delle loro carriere anche loro comunque si vedevano sempre delle qualità per la loro giovane età importanti e hanno creduto nelle loro qualità nel lavoro e nella crescita e si meritano comunque di stare in determinati palcoscenici. Chi ha avuto una grande carriera ma sta incontrando un po' più di difficoltà del previsto alla Juventus è Paredes a che cosa sono da ricondurre queste problematiche? Paredes sta parlando di un altro grande giocatore che è arrivato comunque in una Juventus in difficoltà poi non so se ha avuto qualche problema fisico la Juventus è iniziato a vincere comunque quando poi inizia a vincere con determinato tipo di meccanismo è normale che poi l'allenatore cambia però Leandro lo ripeto è un grande giocatore sicuramente quando ritroverà la forma fisica migliore sarà importante per la Juventus. Qual è secondo lei il ruolo vero di Paredes? Perché sembra che anche nella posizione di regista almeno in Italia stia incontrando qualche difficoltà nella fase difensiva. Lui è un giocatore che comunque non è tanto dinamico però è un giocatore che ha grandi qualità. Lui secondo me davanti alla difesa è uno dei suoi ruoli o davanti alla difesa un centrocampo a due penso che sia il suo ruolo principale. La Lazio con Sarri sta trovando sempre più continuità che cosa è in grado di dare in più alle sue squadre? Organizzazione verticalizzazione e possesso palla che sono le sue doti principali e ci vuole tempo. Infatti l'anno scorso si era già intravisto qualcosa però comunque per un determinato tipo di calcio ci vuole sempre tempo e pazienza e quest'anno sta raccogliendo comunque il lavoro che ha fatto già l'anno scorso. Come mai Maurizio Sarri ovunque va chiede sempre Mattias Vessino come giocatore? Perché è un giocatore che ha gamba che ha qualità ha inserimento e quindi è un giocatore importante penso che Mattias ha avuto nella sua carriera dei infortuni che l'hanno un po' frenato nella sua crescita però ora che magari ritrova continuità secondo me è un altro giocatore importante che può far molto bene ed è uno dei centrocampisti secondo me più più bravi in inserimento nell'attuale Serie A. Ex attaccante invece chi è il centravanti che più le piace in Italia? In questo momento io difendo sempre Ciro Immobile perché è un giocatore che dà sempre l'anima per la squadra fa sempre gol purtroppo ha questa etichetta che segna poco il nazionale ma per me sono pure casualità perché è un ragazzo che che segna così tanto è anche difficile criticarlo poi sicuramente non avrà la tecnica di altri attaccanti ma ha la tenacia la corsa e l'attacco alla porta che tanti non hanno. In nazionale in questi anni come ha giustamente detto si fa fatica a trovare un centravanti che riesca ad affermarsi con continuità per quanto riguarda il futuro su chi punterebbe? Ce ne sono diversi sono tanti giovani bisogna dargli fiducia fiducia dargli le possibilità comunque di giocare di rischiare anche di buttarli in un grande club per la loro crescita sia per la Serie A ma soprattutto a livello internazionale quindi ce ne sono tanti che da Scamacca a Pinamonti a Grifo all'estero comunque un attaccante che sta facendo sta facendo bene basta avere secondo me il coraggio di prendere una grande squadra e fargli fare anche più esperienza internazionale crede che sia corretto convocare giovani in nazionale che nei club ancora devono quasi debuttare ai suoi tempi per arrivare a giocare con l'Italia si faceva molta più fatica si si faceva molto più fatica sono amico del mister quindi non posso dare ragione lui avrà le sue ragioni il mister ha vinto è vero che non siamo qualificati i mondiali ma ha vinto gli europei con una squadra comunque che nessuno pensasse di vincerlo e quindi viene a dare fiducia del lavoro che sta facendo rientriamo in studio queste le parole di Massimo Maccarone l'intervista esclusiva ricordiamo il nostro Alessio Dellungo una serie A che poi riprenderà tra poco a inizio 2023 il via prima lo faranno altri campionati soprattutto quello inglese mentre al mondiale luci e ombre se vogliamo e qua ci concentriamo su un'altra squadra che è quella nera azzurra dell'Inter perché è uscito ieri Marcello Brozovic ma è uscito soprattutto molto prima Romelu Lukaku e da qua che partiamo nell'ultimo approfondimento di questo TMF News con Ivan Cardia ciao Ivan buonasera Marco buonasera buonasera Ivan allora che ci racconta come detto precedentemente l'Inter e questo mondiale luci e ombre un po' dei giocatori nero azzurri ieri è uscito Marcello Brozovic che tra l'altro è stato sostituito per mettere Petkovic davanti un cambio che poi non ha sortito a grandi effetti Brozovic Malino Malino ieri nel complesso nel mondiale secondo me non malissimo comunque la Croazia è arrivata in semifinale l'uomo copertina della squadra croata è sicuramente Luca Modric chiaramente però Brozovic ha fatto il suo ieri è stato approvato questo cambio il tecnico con Petkovic che poi era stato anche l'eroe tra gli eroi o meglio dei quarti di finale però non ha portato gli effetti che sperava contro l'Argentina perché tanto so dovevo andare a parare non di Lautaro perché l'Argentina non è quella di Lautaro Martini esatto ne parlavamo anche prima con Gaetano Mocciaro che ha raccontato l'Argentina la partita per Tutto Mercato Web Ivan racconta le cose nerazzurre da Milano e racconta quotidianamente le gesta di Lautaro Martini senza voler essere epici secondo Gaetano è il mondiale di Julian Alvarez di Lautaro c'è pochissimo e ci aspettavamo molto di più ci aspettavamo ci aspettavamo di più di Lautaro c'è quel rigore con l'Olanda con il pallone fatto vedere fatto annunciare Hann Hoppert e poi poco altro c'è sicuramente la partita slide endorse è la prima che poi è la partita in cui tutta l'Argentina è cambiata con l'Arabia Saudita con l'Arabia Saudita era sconfitta da cui Scaloni e Messi hanno ripreso in qualche modo in mano la squadra nel momento in cui poteva sbandare e che poteva cambiare il mondiale di Lautaro perché poi se uno di quei due gol non glielo avessero annullato e si tratta di fuorigiochi abbastanza marginali magari diventava il suo mondiale non è andata così e si è infilato in uno dei suoi buchi neri che non sono una novità nella carriera di Lautaro Lautaro è un attaccante da grandi picchi e grandi assenze perché l'abbiamo visto anche all'inizio stagione era partito bene poi ha passato dieci gare senza segnare poi si è ripreso e ha ripreso la marcia all'Inter in generale anche grazie ai suoi gol in questo mondiale ha iniziato così così Julian Alvarez che è un grandissimo giocatore lo ha dimostrato anche ieri ha approfittato dell'occasione che gli ha dato Scaloni e ora ormai arrivati alle finali chiaramente toglierlo non ha senso ma in generale da un certo punto in poi è diventato impossibile sostituirlo non è la stagione degli attaccanti dell'Inter dicevamo con Ivan Cardia perché per esempio ce n'è un altro che nel mondiale di Qatar 2022 non ha fatto grandi cose anzi è partito infortunato è partito con condizioni fisiche precarie non doveva praticamente andare nella spedizione catariota poi Roberto Martinez l'ha convocato l'ha messo in capo abbiamo visto Lukaku lo sciagurato Romelu possiamo titolare è stato forse uno dei peggiori in assoluto del mondiale per quelle occasioni sbagliate la condizione non può essere un alibi o sì beh un po' può esserlo perché poi è chiaro che in quella gara in quel secondo tempo nel quale gli sono capitate 3-4 palle gol che non dico il miglior Lukaku ma un normale centravanti almeno una un cugino Jordan sì esatto chiunque un paio sono abbastanza fantoziane anche di errori che ha commesso Lukaku insomma in quella gara chiaramente ha condizionato e ha poi portato all'eliminazione del Belgio però è chiaro che se ti porti Lukaku in quelle condizioni sapendo come ha passato la prima parte di stagione poi è difficile dargli tante responsabilità il Belgio non è uscito per colpa di Lukaku è uscito per tante altre cose per le faide interne allo spogliatoio per una generazione d'oro che probabilmente era già arrivata di sgoccio che aveva fatto capire anche Kevin De Bruyne con alcune dichiarazioni poi si è un po' provato da grappare a Lukaku e ha trovato un big rom anche troppo big da certi punti di vista perché oggettivamente la forma non era ancora quella ottimale e che non è riuscito a fare il miracolo non è il mondiale degli attaccanti dell'Inter l'ha detto giustamente c'è anche Correa che lo ha perso qualche minuto prima che iniziasse l'unico paradossalmente a sorridere tra virgolette è Geko che però non l'ha conquistato con la sua nazionale quindi insomma non è stato davvero il mondiale degli attaccanti dell'Inter dimmi in 30 secondi però se Denzel Danfries è stato protagonista in positivo e dove va a gennaio a giugno o se resta all'Inter 30 secondi per te allora rispondo subito alla cosa più importante secondo me va a giugno al Chelsea credo che finirà così è stato sì il suo mondiale si è messo in vetrina ce l'ha fatto capire anche Raffaella Pimenta perché è evidente da quelle dichiarazioni che si capisca che l'idea è quella di far partire Dunfries il Chelsea con cui se ne parla da tanto tempo se ne parla già da quando è tornato Lukaku a Milano e se ne parlerà ancora è la squadra nettamente in vantaggio se tirerà fuori 60 milioni di euro a gennaio potrebbe già farlo in questo inverno però secondo me aspetteranno il giugno vedremo grazie grazie Bancardia per questa analisi a 360 gradi sul mondiale di casa Inter abbiamo parlato di Lionel Messi abbiamo parlato di Lukaku di Brozovic di Lautaro con Massimo Maccarone Alessio De Lunga ha tracciato un profilo di tante squadre della nostra Serie A e non soltanto l'appuntamento come sempre la giornata di domani con il TMV News e il TG di Tutto MercatoWeb da Marco Contario buona serata grazie a tutti Grazie per la visione!